Fino alla paniglia, la Ferrero Rocher, la famosa azienda dolciaria italiana, illuminerà Presicce, dove si trova Presicce in Puglia, per la precisione nel Salento, il gioiello del Mediterraneo così da volte etichettato, accendendo le luminari natalizze di Piazza Villari in attesa dell'amato Natale. L'azienda realizzerà un film, una pellicola per la campagna digital, che farà di vivere a pieno l'atmosfera del Natale, la tradizione e gli aneddoti che si intrecciano, che si avviluppano, nella storia più importante e più antica degli abitanti del vecchio borgo pugliese. Alle 18 grande festa con Nutella per festeggiare il grande evento in questione. Perché? Perché scegliere di illuminare, diciamo così, una parte così? Perché è comunque un modo per celebrare, per apprezzare e soprattutto per ricordare il Natale, la nascita di Gesù, la nascita dell'agnello di Dio, che diventa, tra virgolette, bimbo, che nasce come bambino e poi si va a immolare nel periodo pasquale. Tra i tanti luoghi che vengono illuminati ci sono, vi ricordo, Piazzetta Villani, Via Marchese Arditi, la Chiesa Madre, il Palazzo Ducare con i relativi giardini pensili. Insomma, zone di Presice davvero molto belli e importanti da vedere, da visitare, da ammirare. Bene, dunque un borgo pienamente illuminato, quello di Presice, vi consiglio di regarvi in loco per apprezzare e per rivivere, o meglio, per vivere appieno l'atmosfera natalizia e per rimanere incantati dal fascino che il Salento, la perla del Mediterraneo, per eccellenza, sa regalare a chi ci va. Non solo nel periodo estivo, non solo quando fa un gran caldo, non solo quando c'è l'estate che avanza e che porta quella ventata di caldo, di calore, e soprattutto di spiaggia mossafiato con acqua cristallina e pura, ma anche nel periodo invernale. Grazie, saluti e al prossimo video.